Ciao a tutte ragazze, oggi vi spiego come fare un portosmalti utilizzando due scatole di scarpe. Materiale, due scatole di scarpe di dimensioni piccole. Servono di dimensioni piccole perché appunto le incolleremo insieme, le insieme così, e qui dentro dovranno starci i smalti. Quindi abbastanza piccole in altezza. Con la Minavil, o normale, se avete quella Q, tipo... Prendiamo la prima scatola e mettiamo della Minavil su un lato. Non serve metterla troppo, credo che così bassi. E spolmiamola con il cappino. Dopodiché, una lana è della direzza, ci appiccichiamo sopra l'altra. Stamato. E teniamo finché la colla non è presa. Una volta fatta presa, dovrò avere un aspetto del genere. Di lato, credo sia molto carino, questa bellissima fantasia di delle ballerine. Ho pochi smalti, quindi credo, perché non ci ho mai provato, credo mi stiano qui. Adesso li metto e vi faccio vedere l'effetto finale. Ci stanno a pelo, però secondo me l'effetto è veramente molto carino. Questo sarà il tutorial, e ciao!